Consegnati dall'Arappi lavori del Porto di Pescara, questa mattina i dettagli del progetto che vedrà a breve l'avvio dell'opera sono stati presentati a Palazzo di Città alla presenza dei vertici regionali e comunali. Come ha spiegato il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, per il Porto di Pescara arriva la tanto auspicata svolta. Intanto è una grande festa per tutta la regione e per la città di Pescara perché finalmente ci leviamo un peso alla coscienza di un obiettivo che abbiamo raggiunto lungamente atteso e per molto tempo inseguito. Cambierà che inizia la rivincita del Porto di Pescara con l'insediamento dei primi lavori che come vedete riguardano la messa in sicurezza dell'apertura della diga forania e l'emersione della barriera soffolta del molo nord. Nel frattempo si stanno progettando gli altri lavori, il porto è integralmente finanziato, gli altri lavori riguarderanno la deviazione integrale di tutto il molo nord, poi la deviazione integrale di tutto il molo sud, quindi tutto il bacino commerciale sarà ovviamente libero dall'arrivo dei detriti del fiume e avremo abbattuto il noto problema dell'insabbiamento del Porto Canale di Pescara. Soddisfatto il sindaco Carlo Masci che ha parlato di opera strategica anche per le conseguenze positive sulla balneazione sul turismo. Soprattutto di risolvere definitivamente il problema della balneabilità del nostro mare che in questi ultimi due anni è stata garantita ma con questa realizzazione sarà definitivamente accertata perché non ci saranno più problemi di sversamento delle acque del fiume verso nord perché le acque del fiume usciranno lontane dalla costa. Quindi risolveremo il problema della balneabilità, avremo finalmente un porto importante e soprattutto io sognavo questa passeggiata fino alla Dica Foranea di un molo lungo e bello che si affacciasse sulla città di Pescara. E questa situazione, questo sogno sta diventando una realtà perché Pescara avrà anche questa bellissima terrazza sul mare a 500 metri dalla costa che ci permetterà di avere un elemento in più per dare a Pescara quel tocco di fascino che ogni volta viene riscontrato da tutti quelli che vengono da nostra città. Il presidente di Arap Savini ha parlato nel dettaglio dell'opera che durerà fino al 2023. È un momento storico che ha visto Arap protagonista in un'accelerazione nell'ultimo anno per quando riguarda tutte le attività programmatorie di progettazione ed oggi di affidamento dei lavori. Perché oggi formalmente vengono affidati i lavori alla nuova Coedmar che gestirà le fasi più delicate con la partenza dell'instaurazione del nuovo molo a nord che metterà in sicurezza pure le sabbie e poi chiaramente proseguirà con il pennello di foce e con tutte le opere di sicurezza. Un'opera importantissima collegata a tutte le altre opere strategiche che devono fare di Pescara un porto messo in sicurezza con tutti i problemi che ci sono da un punto di vista soprattutto dell'insabbiamento e della sicurezza per la navigazione marittima.